Mi sono sposata con un uomo che credevo fosse quello giusto e invece sin da subito sono cominciati i problemi, le varie violenze sia fisiche che psicologiche, economiche, per cui mi sono ritrovata in una specie di prigione senza capire come uscirne, fin quando alla fine non ce l'ho fatta più e ho cercato un aiuto esterno. Inizialmente io non sapevo come uscirne perché lui mi minacciava sempre di togliermi i bambini qualora io avessi denunciato o altro, quindi ero molto titubante prima di tutto per il benessere dei bambini, però poi ho capito che quando loro anche assistevano a certe scene la cosa giusta da fare era denunciare. Dopo tanti anni di violenza pensi di non meritarti di meglio, pensi di sbagliare qualora tu denunciassi il tuo aggressore. Avevo paura anche a denunciare anche per il giudizio della gente, soprattutto di non essere creduta, di non riuscire a spiegare quello che mi stava succedendo. Invece sia nelle autorità che nel centro mi hanno aiutato a farmi ricredere. Mi sono ricreduta e ho fatto bene a denunciare perché mi sono ritrovata tanti aiuti. L'unico consiglio che vi posso dare è di non aspettare la prossima violenza, di non aspettare un cambiamento, che un cambiamento non ci sarà mai. Quindi non abbiate paura e denunciate, affidatevi alle associazioni che vi aiuteranno.